L'abbattimento delle barriere architettoniche, sia fisiche che mentali, resta un problema molto grave nel territorio italiano e anche ovviamente nella provincia di Salerno. Nel Vallo di Diano c'è una eccellenza di chi combatte le barriere architettoniche, ovvero l'avvocato Franco Di Paola che si occupa di questo argomento per la Fondazione Coscioni. Ascoltiamo il suo punto di vista sul lavoro dei comuni in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche e non mancano le frecciate e le critiche a molte amministrazioni ma anche i complimenti alle altre amministrazioni che hanno provveduto all'abbattimento delle barriere architettoniche, per ultime Montesana sulla Marcellana e Monte San Giacomo. È abbastanza, voglio dire, arretratto ma non ci dobbiamo per questo ritenere sconfitti. Il Vallo di Diano sta diventando un centro di sviluppo da questo punto di vista. Sono già sei o sette, se non ricordo male, i comuni che hanno già deliberato a favore dei PEPA. Il primo di tutto è stato Salaconsina che è in una fase già molto avanzata, l'ultimo è stato qualche giorno fa il comune di Monte San Giacomo dove il sindaco ha deliberato con la sua giunta. Ma sa qual è la cosa che più mi meraviglia? Non è tanto il fatto che questi sindaci abbiano deciso di deliberare in tal senso, ma io ho avuto un colloquio con chi ha ritenuto questi PEPA una sceneggiata. Hanno ritenuto questi PEPA una sceneggiata da parte dei sindaci che hanno deliberato in tal senso, non hanno fatto altro che dare un senso di legalità e quindi adottare una legge che già esiste dal 1992, renderla esecutiva. Non è una sceneggiata, l'ho già detto in un'altra occasione. Io vorrei vedere se più cittadini di quei paesi che non hanno ancora PEPA decidessero di adire la magistratura civile e in quel caso vedere quell'ente condannato per discriminazione se gli stessi amministratori dovessero in quel caso considerare ancora dei PEPA una sceneggiata. Perché non è bello nemmeno nei confronti dei disabili pensare che l'aduzione di un PEPA sia una sceneggiata.